Buongiorno e benvenuti a Sette Giorni in Europa. Questo è il nostro ultimo programma dell'anno. Allora, ne abbiamo approfittato per fare un bilancio del 2011. Per aiutarmi in questa impresa è venuto l'onorevole Paolo De Castro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lei è il Presidente della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento, eletto tra le fila dei socialisti e democratici, ma è soprattutto un fine conoscitore delle cose europee. Allora, prima di entrare nel vivo le discussioni e vedere insieme un po' quest'anno la cosa che è stato caratterizzato, partiamo con la nostra batteria di domande. Sì o no? Sigla. È stato un bel anno quello che si conclude? No. No. L'anno 2012 sarà peggio? Speriamo di no. È troppo tardi per salvare la zona euro? No, non è troppo tardi. Lei ce l'ha una ricetta per calmare i mercati? Dare più fiducia all'Europa? Ah, va, 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 sì o no? Sì. Fare un'Europa più coesa con la fiscalità e il mercato del lavoro è una buona cosa? Sì. Senza il Regno Unito è anche una buona cosa? No. No. La banca centrale dovrebbe stampare nuova moneta per calmare i mercati? Se fosse necessario sì. Lo farà? Sì. Sì. Secondo lei l'Italia farà default? No. No. Ma avrà bisogno di un piano di aiuti internazionale? Sì. Dovremmo farlo assieme. Con la crisi si rischia di compromettere altre riforme importanti come quella della PAC? Il rischio c'è. Il rischio c'è. Per trovare abbastanza cibo nel futuro gli OGM potrebbero essere una soluzione? Tutto il mondo l'ha scelti. Bene, il tempo è scaduto, avevo altre domande, le vedremo dopo. Grazie di essersi prestato a questo nostro piccolo gioco. Allora, prima di entrare nel vivo nella nostra discussione, abbiamo scelto di parlare di un argomento che è stato il pezzo forte da l'inizio della legislatura. Ce lo racconta Caroline Grasso. Au classement dei sujets les più discutati da l'hémicycle, la crisi economica e finanziaria è senza conteste le gagnant depuis le elezioni di 2009. Il buto è sempre il stesso, redresser la situazione e evitare una ripetizione di la crisi. Coup de projecteur sull'adoption del paquete di governanza economica. Appelé aussi six-pack, cet ensemble di six nuove lezioni a finalmente stato adopté il 28 settembre 2011 par les eurodéputés. Per la prima volta, il parlement europeo è associato a la definizione delle regole di la monnaie unique e a négociato su un pied d'égalità con il Conseil, che rappresenta gli Etats. Le deputato hanno ottenuto delle avancze significative. Sylvie Goulard, che gira il dossier depuis il primo, nous explica di cosa il s'agit. On ha voluto tirare le lezioni dei difficolti che sono apparati in un paio come la Griecia. L'Etat grec c'était troppo endetté, donc on essaye d'avoir plus de discipline. Deuxièmement, on a cherché a tirer le leçon de ce qui s'est passé en Espagne ou en Irlande, où l'Etat avait bien géré ses finances, mais on avait des bulles immobilières, donc trop d'endettements privés. Des critères existaient déjà pour encadrer l'économie européenne, comme le pacte de stabilité et de croissance, qui encadre les déficits publics et la dette des Etats. Mais il fallait aller plus loin et introduire des moyens de pression en cas de dérapage. Il y a cette idée qu'il faut qu'on soit beaucoup plus sévère en amont. La Commission dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on fait en sorte que ce soit le plus automatique possible. Le pacte va donc être révisé, exemple de meilleurs mécanismes de prévention, qui donnent le droit à la Commission européenne de vérifier les budgets des pays membres, ou encore des mécanismes de sanction des mauvais élèves. Le tout, bien sûr, garanti dans un cadre démocratique. Ce qu'on veut, c'est que si la Commission dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le pays puisse se défendre et que ça se passe au Parlement. Est-ce que l'on va vraiment changer les choses avec ce nouvel arsenal de mesures ? Certains en doutent. Nous pensions que certains des éléments des six-packes sont socialement non balancés. Nous sommes en favor de la discipline budget. C'est absolument clair. Nous sommes aussi préparés pour accéder aux décisions dans les budget publics. Mais quel genre de décision ? Allora, Paolo De Castro, l'abbiamo visto anche in questo piccolo reportage. Dobbiamo riassumere l'anno 2011 in una parola, crisi, crisi, crisi. Quello che le volevo chiedere era, appunto, da osservatore europeo, che sta qui da molto, che adesso è ritornato, secondo lei se si agiva prima si poteva evitare questo spandersi della crisi della zona euro o erano, diciamo, quelle forche caudine da cui bisognava passare ? Sì, il mio parere è positivo, assolutamente sì. Abbiamo avuto paura di agire in fretta per una visione troppo legata ai problemi nazionali e una visione di corto periodo. Dobbiamo guardare questa crisi come un straordinario problema, ma che può essere anche una straordinaria opportunità, perché capiremo che solo tutti insieme possiamo risolvere questo problema. Non è un problema di uno, di due o di tre paesi, ma è un problema dell'Europa. E' quello che è stato fatto finora, così, guardando, per esempio, voi avete votato su dei voti, insomma, importanti. Questo six pack, più sanzioni, quasi automatiche, rigore, rigore, rigore. Per lei, insomma, è... Sicuramente un passo avanti, ma non sufficiente. Quello che occorre è la presa di coscienza che occorre in un'Europa più coesa. Abbiamo fatto l'euro con una grande sfida di chi allora ha avuto il coraggio di avanzare questo straordinario strumento senza avere una politica monetaria, una politica fiscale comune. Adesso dobbiamo completarlo. La crisi ci spinge a completare questo percorso europeo e lo dobbiamo fare consapevoli che dobbiamo dare le risposte alle nuove generazioni, dobbiamo dare le risposte ad un continente che può agire e può dare solo unite, solo unito, può dare le risposte ai grandi problemi che abbiamo davanti. Sì, l'unico, diciamo, dubbio che si ha in questi passi avanti che si fanno, poi le chiederò, insomma, dell'Unione Fiscale, se le cicerade veramente, è che però alla fine siano sempre due, tre paesi che decidono per tutti gli altri e che perdita di sovranità non voglia dire comunitario. È la visione di una politica europea intergovernativa, ecco perché c'è bisogno, se vuoi, anche di più Parlamento europeo, una visione più europea e meno intergovernativa, più una visione comune. Il metodo comunitario l'abbiamo inventato, ma ogni tanto ce ne allontaniamo, senza renderci conto che l'egoismo dei singoli paesi e una visione limitata al singolo paese non ci fa fare quei passi avanti che invece l'Europa ha saputo fare finora. L'Unione Fiscale ha 26, ma non è un sogno questo? Chiaramente bisogna seguire un percorso, non si può fare subito tutto, ma credo che questa crisi ci dimostra la necessità di dare una risposta comune. e anche i passi che sono stati fatti, sebbene non nel senso che noi del Parlamento europeo avremmo voluto, ma anche gli ultimi vertici europei hanno dimostrato che si può seguire una strada positiva. Perché certo, per spiegarlo e ricordarlo, dopo il vertice europeo, in pratica il Parlamento è stato un po' estromesso, perché si farà un trattato in cui adesso sono invitati quattro deputati, è stato proprio deciso da pochissimo. Tre deputati per il trattato. Più supplente, Daniel Colbendit. Però, di fatto, che andranno a fare? Andranno a ascoltare, a dare la loro... La visione dell'Europa è intergovernativa, è proprio quello che dicevamo prima, la necessità di affrontare i problemi in maniera congiunta, guardando a quella che è la storia europea. Ecco, forse ci mancano quelle leadership europee che ci hanno fatto fare quei straordinari passi avanti, fino ad oggi, e oggi siamo un po' limitati, ci sarà la concomitanza elettorale che sicuramente non ci aiuta, le elezioni in Francia, le elezioni in Germania, ma certo è che dobbiamo avere la forza di fare uno scatto, uno scatto, e devo dire che nella storia l'Europa, quando si è sempre avvicinata al baratro, ha dato il meglio di sé. Speriamo di non caderci in questo baratro e di riuscire anche questa volta a tirar fuori quella voglia di Europa, che è l'unica soluzione ai problemi che abbiamo visto. Però il momento, diciamo, non è tra i più felici. C'è questa irrazionalità che si è un po' accaparrata dai mercati, per cui uno approva buone soluzioni in Italia, adesso c'è monti, piano di rigore a livello europeo, eppure i mercati continuano ad attaccare. Quello che le volevo chiedere era, lei è anche, diciamo, per quanto riguarda il Parlamento europeo, a capo comunque di una riforma, come Presidente della Commissione Agricoltura, molto importante che si sta costruendo sulla riforma dell'agricoltura europea, la PAC. L'abbiamo vista a Durban per il clima, c'è il rischio che questa crisi si accaparri di tutto, e che quindi anche una riforma così importante come quella, perché la PAC per l'Europa, ce lo dice adesso lei, insomma, qual è il suo sentimento adesso? Intanto ci obbliga a ritornare ai fondamentali, meno finanza e più politica industriale, più politica agricola, tornare a ciò che ha reso forte l'Europa, forte nelle sue industrie manifatturierie, manifatturierie nella sua politica agricola. Ricordiamo che non c'è stato mai nella storia di qualunque continente un paese forte, se non ha avuto dietro un settore agricolo e alimentare forte. E noi abbiamo la politica più importante, insieme agli Stati Uniti, col Far Bill abbiamo una politica agricola che oggi ha altre sfide importanti. Non c'è più soltanto il tema della produzione del cibo, la dobbiamo produrre anche perché viviamo in un momento di instabilità dei mercati drammatici. Si domanda più cibo di quanto ne produciamo. Però lo interrompo perché poi alla fine è un problema anche di soldoni. Il sentimento qual è? Ho letto che la Commissione, non so se l'ha già fatto, lo sta facendo, proporrà una riduzione del bilancio. Alla fine se non ci sono i soldi come si fa a fare questa PAC? Ci saranno i soldi? Io penso di sì, perché investire in Europa non significa tagliare da una parte e tagliare quindi anche in Europa. La PAC è la risposta alle grandi sfide che abbiamo. E certamente il rischio che questa crisi finanziaria possa portare a tagli della politica agricola c'è. Ma noi l'abbiamo detto chiaramente, noi della Commissione dell'Agricoltura non voteremo una riforma della PAC se non avremo certezza nelle risorse finanziarie. Bene, secondo lei mi deve dare una risposta in 20 secondi perché abbiamo già superato il nostro tempo. Riusciremo questa volta a avere dei criteri chiari per fare in modo che la qualità anche dei piccoli produttori venga preservata e che i soldi non vadano sempre ai soliti ricchi? La politica agricola non è una politica sociale. La politica agricola deve assicurare forza alle imprese agricole europee produrre di più inquinando meno. Questa è la grande sfida che abbiamo di fronte. Salvaguardando la qualità, speriamo. Certo che sì, perché senza qualità non c'è possibilità di mercato, non possiamo competere solo sui costi in Europa. Riparleremo. La ringrazio tanto di essere venuto. Buon anno. Grazie. Arrivederci. Grazie a te. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io do il benvenuto a Elisabeth Lasky. Lei rappresenta la piattaforma per i cittadini europei ECAS e con lei parleremo dell'iniziativa cittadina che è un'arma in teoria in mano ai cittadini dell'Unione per far sentire la loro voce che però non è stata ancora usata. Ma prima anche lei sarà sottoposta alla nostra batteria di domande sì o no. È pronta? D'accordo. Sigla. Dal trattato di Lisbona ad oggi sono passati due anni. Ancora l'iniziativa cittadina non è arrivata. Era previsto un tempo così lungo? Sì. Anche più lungo. Anche più lungo. Quando partirà, secondo lei, in aprile sarà davvero per davvero? Sì. Sì. C'è il rischio che la Commissione non prenda mai veramente in conto le richieste della società civile? Non veramente. Non veramente. L'Europa, per come funziona oggi, secondo lei, ascolta i cittadini europei? No. No. Le multinazionali e le banche sono troppo ascoltate? Ahimè sì. Manchiamo di democrazia diretta? Sì. Manchiamo di veri leader europeisti? Eh sì, pensate sì. E in Europa tutti i stati contano allo stesso modo? No. No. Solo Francia e Germania? No. No. Secondo lei l'Europa sa spiegare quello che fa? A volte sì, a volte no. E i giovani sono tutti europeisti? No, purtroppo. Secondo lei c'è un progetto europeo oggi, chiaro? Non chiaro, ma c'è. C'è. Lei ha paura per questa crisi economica? Sì. Una legge europea su iniziative popolari? Ci arriveremo un giorno? Speriamo. Speriamo. Uh, non è tanto. Grazie Elisabeth Lasky di aver giocato con noi anche. Tra un attimo parleremo di come funzionerà questo nomosistema. Intanto abbiamo preparato un bilancio un po' speciale dell'anno passato, prendendo in considerazione le leggi che riguardano i consumatori. È un reportage firmato Caroline Grasso e Christophe Ghasch. Vediamo. Chaque fois qu'on fait ces courses, c'est un peu d'Europe qu'on ramène à la maison. Prenez questa boite di conserve. Que contiene la sauce tomate? Oui, ma ancora. C'è veramente scritto tutto petit. Heureusement, le cose va cambiare. Desseremo, la plupart dei prodotti alimentari dovranno affichere di maniera veramente lisibile la teneur energetica dei prodotti, la quantità di acide gras che li contiene, di lipidi. Au moins, on achètera in connaissance di cause da tutta l'Unione. Buona notizia anche per le persone allergiche come me. Le fabriquanti dovranno indicare chiaramente se il prodotto contiene dei prodotti allergenti o non. Depuis la crisi della vache folle, on sait d'où viene questa viande di bœuf. Ma ora, la mentione del paese d'origine sarà diventata. On escucha Renate Sommer, è stata rapporteure al Parlamento su questo dossier. E' un CD in grande superficie è facile. E se non si non è contento, è necessario andare al servizio per vendere per rendere o cambiare. Ma oggi, più e più europei compagano in linea, da un paese a l'altro. E se non si non è contento, buongiorno per rendere. Ma è vero, è vero. Caroline, il prodotto o la vendere sarà in un paese europeo, sicuramente da dove il internet è imparato, informi a questi due. I. 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 va essere rinforcée. Con questo tipo di scannere, il pharmacien può in un solo clic verifiché d'où viene una bocca di medicamento. Ah, sì, ci va cambiare anche per le farmaci in line. Tutte le farmaci su internet devono pruver che sono ben autorizzate. Il è tempo. Per clare questo tour d'horizont, vi adesso con un autocarista, car là aussi, le consumatori europei avvano bientôt avuto nuovi droits. Bonjour, monsieur. Votre ticket. Parfait. Bon voyage. Un esempio buono è quello che in caso di annullamento o ritardi che superano le due ore, c'è il rimborso del biglietto più il 50% e nel caso in cui sia un viaggio internazionale, c'è il pernotamento pagato per due notti fino ad un massimo di 80 euro. Bon, beh, il n'y a più che attendre l'entrata in vigueur di tutte queste misure. Faudrà patienter ancora almeno un anno. Bon voyage. Allora, Elisabeth Lasky, torniamo alla nostra iniziativa cittadina. Era stata annunciata come la grande novità del trattato di Lisbona, finalmente un'arma di, come dire, politica diretta, democrazia diretta, eppure la aspettiamo, bisogna mettersi d'accordo su come farla. Concretamente, il compromesso è stato trovato tra le istituzioni è buono? Secondo lei funzionerà? Allora, devo dire, non è male, sinceramente, parlano chiaramente, c'è stato un grande periodo di consultazione, sia con la società civile, è cominciato subito il periodo in cui è stato deciso sostanzialmente come portare a capo l'iniziativa cittadina. La consultazione con la società civile è stata molto forte, il Parlamento è stato molto forte, sono stati eletti quattro rapporteure, due del comitato, ripeti, di due del comitato di AFCO. Come funzionerà concretamente? Mi sembra che ci sia una commissione che poi ascolterà i petitioneri che verranno qui. Ce lo puoi dire rapidamente? Come funzionerà proprio? Come funzionerà l'iniziativa cittadina? Ci vuole un milione di firme, Allora, l'iniziativa cittadina dà la possibilità ai cittadini europei di, se riescono a raggiungere un milione di firme, di proporre una legge o di proporre un campo di azione alla commissione. Da quanti paesi devono venire? Devono venire almeno da sette paesi. Il numero di firme in ogni paese è direttamente proporzionale. Alla fine ci sono una serie di checks, cioè la commissione vuole controllare che il tema non sia né contrario ai valori dell'Unione e anche all'interno delle sue competenze. Se questi primi esami passano? Se questi primi esami passano, se si riesce con tutte le difficoltà del regolamento tale com'è adesso a raggiungere un milione di firme, ci sarà alla fine un public hearing, cioè un'avvienza pubblica che avrà luogo con la commissione ma è dal Parlamento. Quindi la commissione sarà obbligata a dare il proprio giudizio con una comunicazione. dopo che arriva questa comunicazione e mettiamo che sono stati superati tutte queste fasi, la commissione sarà obbligata giuridicamente a presentare una proposta legislativa o no? No, non stiamo parlando di patere referendario, assolutamente. Però nell'Europa e con la commissione che abbiamo in questo momento è molto probabile che la commissione si senta convinta e costretta anche in qualche maniera a esprimersi il più presto possibile nella maniera positiva. Secondo lei per tutti gli incontri che ha avuto con la commissione risposte rapide per piacere che il tempo e tiranno la commissione insomma ascolterà queste iniziative o all'inizio perderà tempo? No, assolutamente la commissione ascolterà però la commissione non è l'unico attore in gioco c'è anche il consiglio c'è anche il Parlamento però alla prerogativa dell'iniziativa legislativa quindi poi l'iniziativa nel momento in cui si fa poi si mette in piedi un procedimento per creare una legge sostanzialmente ci saranno diversi attori in gioco quindi in generale la commissione sì sono favorevole è ottimista allora ci dica in aprile partirà quale sarà secondo lei la prima iniziativa popolare che verrà presentata? Allora non so esattamente la prima posso parlare del campo in cui saranno ci saranno le prime iniziative legislative sicuramente saranno i campi relativi ai diritti dei consumatori secondo me come abbiamo visto nel nostro reportato per esempio ci sono secondo lei delle zone più d'ombra dove veramente bisogna intervenire non sono le domande che arrivano più spesso ma allora ci sono da una parte come dicevo alimentazione esatto per esempio una grande possibilità sai ci sono state le iniziative pilota che non hanno valore giuridico non hanno valore iniziative cittadina una per esempio riguardava l'energia nucleare quindi ci possiamo aspettare anche un'iniziativa per quanto riguarda gli organismi gerettimicamente modificati che ritorna alla discussione che lei ha appena avuto bene Isabet Laschi grazie tante di essere venuta un piacere a presto e sette giorni in Europa finisce qui buon anno a presto a presto Grazie a tutti.